Allora che ti do fa? Non lo so Voglio essere cosa? Voglio essere una triggretta, una triggere Un'altra triggere, triggere. E se mi tocco gli occhiali. Mettiti la fascia. Poi dobbiamo mettere qua perché sennò mamma sai che dice? Che dice? Fa piano! Fa piano! Cosa hai fatto la moglietta? Fa piano! Hai fatto questo uomo! Di nuovo la tigre, no? Dai! E che facciamo? Un leone? Un leone? Ok. Come si fa quello? Mi sembra il nero e il giallo Allora mentre vado a prendere l'acqua e i tovaglioli, fammi una dedica Che significa? Una dedica! Una dedica zia! Spero che, oppure zia sei questo, sei quell'altro A me zia mi truccherà Zia fa la truccatrice anche perché oggi mi voleva truccare ed ecco accaduto Quindi, quindi adesso mi ha lasciato da sola Zia mi truccherà molto bene L'hai fatta? Un leone lo vuoi normale o un leone rosa? Un leone roso Eh? Gli sapevi? Gli sapevi? Eh? Secondo te, perché te l'ho proposto? Rosa e fucsia E questa chi è? Eh, una bimba Allora Mi piace strizzare Facciamo il saluto, dai Facciamo? Il saluto? Non vogliamo salutare? Dobbiamo fare buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Aspetta insieme Pronta? Uno Due Tre Buongiorno a tutti Oggi siamo qui Per fare un tutorial di carnevale Che riguarda appunto La mia patatina E facciamo la Non mi chiamare patatina No, no, scusa Come ti devo chiamare? Come ti devo chiamare? Come ti devo chiamare? Come ti devo chiamare? Va bene La mia Fabi E facciamo un leone rosa E lo so che non esistono Però è appunto carnevale Quindi ogni scherzo vale E possiamo farlo rosa Giusto? Sì Rosa e viola È viola Preone Utilizziamo questa spugnetta qui gialla Mi adopero anche con questa Perché sicuramente faremo un macello Io non tocco gli acqua color da circa un anno Quindi vediamo cosa ne esce Perché utilizzerò gli acqua color della Diamond FX Questi qui sono tra i più professionali e scriventi che abbiamo in commercio Allora Musetto prima Quindi Ok Poi prendiamo il rosa E facciamo il resto quindi Prima le guance Vieni qua Non scappa Poi il naso E poi lo rigiro E oro Fai finta che è rosa E lo rigiro Mi sfumo il bianco con il rosa Così ci sia C'è la sfumatura Prima che si asciuga Perché se no non possiamo più sfumare niente Ancora il rosa Ancora il rosa qui Posso aprire? No Sto ancora con gli occhi Riprendo il rosa Riprendo il bianco Guarda gli occhi Voglio un po' vedermi Poi prendo un altro pezzo della spugnetta E lo vado a intingere di viola Lo vado a intingere qui Nei contorni Attenzione ai capelli Si Aspetta Aspetta E poi vado con la spugnetta di rosa Mi vado a sfumare questo viola Non sembro proprio un leone E non ancora Un capello non invitato Il segreto per lavorare bene con gli acqua color E' essere super rapidi Perché sennò Non si sfuma più niente E vengono tutte chiazze Oh no 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 Stavo gestendo Signore Che è questo? Ti ho detto Che è forte Noi praticamente dobbiamo seguire questo Qui Perchè lo metti un po' più vicino Perchè non si vede Perchè non si vede Perchè non è a fuoco Poni di nero Con l'acqua color nero Andiamo a fare 200.000 volte Vieni qua su Senza fare storie Qui c'è un triangolo Quindi Ti faccio sapere? Sì Non vedo niente nero Qua è perchè tu non c'hai gli occhiali Quanto ti voglio truccare? Ti faccio un zuppa di colluto Schazzetta Ci hai creduto Faccia di velluto Zuppa di colori Labbra Poi qua dobbiamo fare i baffi Poi qua dobbiamo fare i baffi Che sollezco Così si fa il leone rosa Poi ci sono Poi qua vedi dobbiamo fare il ciuffo Abbiamo finito Un attimo i puntini Poi Parli come sogno E i puntini Quasi parla sogno E te l'hai detto così E i puntini Ok Tutti sanno imitare la sua musica Io abbiamo poco tempo a giocare con le Barbie Eh vabbè Abbiamo giocato se divertire più con questo penso Ma Oh no Sì Poi Noi Gli attenzione con le mie vanno l'anteprima agli occhi Bisogna avere un po' di imbettiva Allora adesso facciamo l'anteprima Questo è l'anteprima Che tu fai Ok Solo questo Eh Solo questo Sì Non vuoi fare altro Abbiamo finito Sì Facciamo il seguito finale Ciao Oddio ma io ti devo truccare Sì ma mi trucchi Allora noi abbiamo finito con il suo di tutorial Non abbiamo fatto gli occhi perché Perché adesso lei va a pranzo a casa della nonna paterna E quindi poi dopo per struccarla è un po' un casinotto Però adesso lei mi trucca a me Poi la ci strucchiamo e poi la va a pranzo La Faffala La Faffala La Faffala E guarda Wow ma che brava Un altro colore No Ecco